Esordio casalingo sul neutro di cerco, l'amaro per la Sandro Abbate, la squadra allenata da Oranges ha perso 4-3 contro Eboli, una sconfitta che arriva davanti ad un buon numero di tifosi e al sindaco Festa accompagnato dall'assessore Giacobbe. Uno stop che giunge praticamente al fotofinish a 50 secondi dal fischio finale grazie a un gol di Fornari. A sbloccare l'incontro sono i bianco-verdi capitanati da Abbate che trovano subito due reti con le segnature di Lolo Suazo e di Anluca. Tres sigla il gol del 2-1 mentre Bebetigno segna il 3-1 per i bianco-verdi. Ancora Tres e Meneguez portano il risultato sul 3-3 prima della zampata decisiva e vincente di Fornari. Adesso per Bebetigno e compagni subito la possibilità di riscattarsi tra le muramiche contro Latina con la speranza che l'apporto del pubblico in attesa del ritorno in quel di Avellino Tana dei bianco-verdi sia sempre maggiore.